Gentili telespettatori, buona giornata. La Lega presenterà in tutti i tribunali italiani un esposto denuncia perché ci sono aumenti totalmente fuori dal mondo, che non c'entrano nulla col Covid o con la crisi internazionale, che sono assolutamente ingiustificati, dichiara il leader della Lega durante un'intervista concessa a margine di Let Expo alla Fiera di Verona. Il caro Carburanti rischia di fermare il paese, dice Salvini, a tutto beneficio di qualche furbetto. Ci sono pochi che stanno guadagnando miliardi sulla pelle di tanti che rischiano di chiudere, di fermare macchine e camion o di spegnere il riscaldamento. Qualcuno sta speculando su crisi e Covid. Poi Salvini sottolinea la necessità di aiutare subito famiglie e imprese come stanno facendo altri paesi europei. Se serve mezzo miliardo in più dopo due anni di Covid la Lega chiede al governo di trovare questi soldi e di farlo subito a marzo. Beh, dei soldi sono stati trovati. Hanno trovato tipo 4 miliardi e mezzo che arrivano dalle tasse in più, dall'IVA in più che arriva. Visto gli aumenti dei carburanti, anche l'IVA è sempre la stessa percentuale, ma fa entrare più soldi allo Stato. Cosa ha fatto il governo? Prende questi soldi dell'IVA in più, 4 miliardi e mezzo, li mette per tagliare le bollette. Ma fino ad aprile, dopo sono cacchi vostri, questo è il concetto, dopo ci teniamo noi il guadagno extra. Non glielo diamo più agli italiani, ce lo teniamo noi, in cassa. Quindi questo per rispondere a Salvini che il governo in realtà qualche soldo lo ha trovato. Dall'extra guadagno ha trovato qualche soldo. Serve mezzo miliardo in più. 500 milioni per famiglie e imprese sono un po' pochini. Se voi dividete 500 milioni per tutte le famiglie italiane o per una parte quelli che hanno più bisogno economicamente, non si va da nessuna parte con 500 milioni di euro, mezzo miliardo. Quindi non serve solo mezzo miliardo in più per cercare di ammortizzare un po' l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia. Qualcuno in Parlamento, dice Salvini, parla di aprile e maggio, ma la gente fa fatica oggi. Io capisco che la gente faccia fatica oggi, caro Salvini. Bisogna vedere dove si possono trovare questi soldi, perché il governo ha già trovato da luglio scorso, compresi questi 4 miliardi e mezzo, è arrivato a oltre 20 miliardi di euro per tagliare le bollette. Ma non sono sufficienti, perché le bollette, dall'estime si parla di oltre 100 miliardi. Oltre 100 miliardi di aumento delle bollette in Italia. Dove cavolo trovi 100 miliardi? Ad esempio, vi faccio un esempio. Se non ho sentito male, la Germania ha preso 100 miliardi di euro e li mette per la difesa. 100 miliardi. Noi abbiamo fatto fatica a trovarne 20. Ho capito che loro sono la prima economia europea, hanno un PIL che è quasi il doppio di quello italiano, ma il fatto è che gli altri stati non sono indebitati come noi. Gli altri stati magari hanno delle riserve più alte, perché non hanno i debiti che abbiamo noi. Quindi è più facile per una Germania far saltare fuori 100 miliardi che l'Italia trovarne 20. Per l'Italia averne trovato i 20 per tagliare le bollette è un successo inenarrabile. Mentre per la Germania è 100 miliardi, visto che quel paese non è indebitato come noi, è più semplice. Pensate, li hanno messi sulla difesa. Se noi li avessimo avuti, i 100 li avremmo messi sulle bollette. Loro si vede che li hanno in più sulla difesa. Poi ne avranno altri da spendere per altre cose. Questo è per farvi capire che il paese d'Italia è indebitato all'inverosimile. Ed è per questo che non ci sono i soldi per fare nulla. In Italia non ci sono i soldi per fare nulla. Perché tutte le tasse che si pagano vanno in pensioni, vanno nell'amministrazione pubblica. E soprattutto i debiti è per ripagare il debito, gli interessi. Ad esempio, abbiamo interessi sul debito di oltre 70 miliardi di interessi sul debito. Immaginatevi avere ogni anno 70 miliardi in più. Senza pagare interessi, avere 70 miliardi in più. Quante cose si potrebbero fare con 70 miliardi in più all'anno? Fate conto che il reddito di cittadinanza costa 10 miliardi. Quindi avremmo 7 volte il reddito di cittadinanza. Oltre il reddito di cittadinanza che già paghiamo. Da poter spendere in sussidi, aiuti, tagli di bollette. Ma l'Italia non lo può fare. La Lega insiste, il governo parla di abbattere le spese sulla benzina, 15 centesimi il costo del carburante. Ma Salvini dice che bisogna fare di più. Alcuni paesi europei salgono fino a 40 centesimi di taglio. Però, caro Salvini, altri paesi, come dicevo prima, non hanno il debito nostro. Noi quel taglio, il governo se lo vuole tenere una parte in tasca per pagare forse il debito. Dice, io penso che siano soldi ben spesi quel taglio di 40 centesimi. Sicuramente, ma bisogna vedere dove il governo, di cui fa parte anche Salvini, possa trovare questi 40 centesimi da tagliare il costo della benzina. Lui aggiunge che la crisi economica è irreversibile, con imprese e negozi che chiudono e famiglie che tagliano sul riscaldamento. E su questo ha ragione. In tempi come questi occorrono soluzioni eccezionali. Il taglio di 15 centesimi non basta. Sono d'accordo con Salvini. E in tempi eccezionali ci vogliono soluzioni eccezionali. Ma l'Italia non può stampare moneta. Non possiamo stampare euro come qua. Quando c'era la lira si stampava la lira. Oggi non possiamo stampare moneta. I soldi che ci sono, sono quelli. Anzi, i soldi che non ci sono, non sono quelli. Cioè, sono quelli, non ci sono. Quindi trovare altri soldi non è così facile. Allora, dirlo è facile. Salvini o anch'io vi posso dire No, non va bene, 15, bisogna trovare 40, 40, 40. Perché? Perché lo dico io. Ma una cosa è dirlo. E una cosa è trovare quei soldi per tagliare la benzina a 40 centesimi. Molti di voi so che rispondono Eh, è facile. Prendi lì, prendi là, prendi su, prendi giù, no? Non è così semplicistica la cosa, no? Eh, beh, so io, no? Eh, tagli lì, tagli là, li prendi di qui, li prendi di là. Se fosse così semplice lo farebbero già. Lo avrebbero già fatto. Non è così semplice. I soldi, realmente, non ci sono. Per tirarli fuori bisogna fare dei numeri acrobatici oppure mettere tasse nascoste per non farle vedere che io ti abbasso la benzina ma zitto zitto ti prendi i soldi in un'altra parte. Non è che ci sono troppe vie ad uscite. Arrivederci e grazie.